Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, due persone finite in manette perché ritenute responsabili di estorsioni ai danni di un commerciante siracusano. Cercati un amico. Le manette sono scattate ai polsi di due vecchie conoscenze e le forze dell'ordine. Davide Pincio, 43 anni, ritenuto in questa circostanza il regista dell'estorsione. Maurizio Bianchini, 51, ritenuto il cosiddetto amico buono. I carabinieri hanno avviato l'attività d'indagine all'insaputo della vittima che si è incontrato una prima volta agli inizi di gennaio con Bianchini e successivamente con Pincio. La richiesta estorsiva si aggirava in 12.000 euro che il panificatore avrebbe dovuto pagare in più tranche. Pincio, ritenuto esponente del clan Santa Panagia, avrebbe raggiunto l'intesa con la vittima per il pagamento di una prima tranche di 800 euro. La consegna della somma è avvenuta nel negozio che gestisce Bianchini. Subito dopo che la vittima si è allontanata, sono piombati i carabinieri che hanno sequestrato le banconote rese dalla vittima. Ci sono quindi le estorsioni, il racket alla base delle attività illecite che i clan malavitosi siracusani proseguono a mettere in atto, ma c'è anche un'ipotesi di collaborazione tra i diversi clan, ne fa il punto il procuratore capo. Una risposta in questo caso tempestiva alla denuncia di un imprenditore. Sì perché quando c'è assoluta fiducia da parte dei cittadini che collaborano, grande professionalità della polizia giudiziaria, l'uso delle tecnologie, i risultati vengono subito e soprattutto quando c'è la capacità di analizzare gli obiettivi, le tecniche d'indagine e di usarle. Lei diceva che al di là della serenità di questa città, insomma sotto sotto qualcosa cova. Ma questo adesso vorrei dire che è l'aspetto peculiare della storia della criminalità siracusana, cioè quello di mostrare un'apparente indifferenza eccetera, mentre nel sottosuolo delle dinamiche ci sono delle realtà che covano e che naturalmente hanno delle grosse potenzialità offensive. Una di queste peculiarità è il fatto che due clan storicamente opposti adesso facciano insomma abbiano fatto la pace. Sì ma questo non deve meravigliare perché questo tipo di alleanza viene riscontrato in questo momento dappertutto sostanzialmente, anche in altre città più importanti, cioè probabilmente è il risultato di una difficoltà di gestione delle cosche, le quali a un certo punto ritengono opportuno di allearsi per aumentare le loro forze perché sono state assottigliate negli anni con arresti eccetera e quindi hanno capito che non conviene loro farsi la guerra ma piuttosto darsi una mano. La denuncia paga sempre? Ma io sono convintissimo, io personalmente penso che ci sia un dovere giuridico di denunciare e quindi questo lo dimostra. Matassa dipanata attraverso l'intelligence e le attività dei carabinieri, il comandante Perdichizzi spiega nel dettaglio come si è arrivato ad individuare i due presunti autori di estorsione. Insomma dalla denuncia della vittima poi inizia la vostra attività. Sì è un'attività di indagine investigativa pura, ne parlo con grande soddisfazione perché è una risposta intanto tempestiva, l'estorsione è iniziata a fine dicembre, le richieste estorsive, le prime richieste con messaggi minatori e bottiglietta sono iniziati dal 23 dicembre e poi hanno avuto un secondo episodio e nel giro di poco più di un mese si chiude il cerchio con l'arresto degli estortori e il recupero della somma che era stata versata a titolo di anticipo come prima tranche. L'indagine parte ovviamente dalla denuncia della vittima che ha segnalato, ma ha segnalato semplicemente di aver rinvenuto bottiglietta e minaccia richiesta estorsiva. Da quel momento in poi è cominciata l'attività investigativa pura senza quindi collaborazioni, dichiarazioni, null'altro che non fosse la professionalità e la capacità dei militari che sono riusciti a documentare tutte le varie fasi dell'avvicinamento della vittima e della formulazione della richiesta e inoltre a intervenire in flagranza mentre veniva data la prima tranche che è stata sequestrata a uno dei due arrestati. Non solo, ma si è risaliti all'organizzazione e quindi a chi materialmente, persona con precedenti specifici attuale reggente di Cosa Nostra su Siracusa aveva deciso che questo soggetto doveva entrare nel novero delle persone da sottoporre ad estorsione. È evidente che in una situazione di questo tipo si apre uno squarcio di riflessione su quelle che sono le aree della città colpite in base al radicamento dell'organizzazione da questo fenomeno e ancora una volta è importante, lo sottolino sempre ma questo è un caso che è esemplificativo, è importante sottolineare l'importanza che le vittime denunciano il fatto. Non è fondamentale che collaborino in un altro senso perché non lo sanno chi è che gli fa la richiesta, in questo caso non era noto, poi c'è stato un avvicinamento, non lo sanno, ma almeno denunciare il fatto. Questo costituisce lo spunto per poter avviare attività investigative che come in questo caso hanno prodotto gli aspetti auspicati e c'è la soddisfazione di aver reso un servizio alla collettività. Si terrà all'interno della Lucoil Sud la prossima fermata riguardante la vicenda ex Siteco, Punta Cugno e Piattaforma Vega. Si susseguono intanto gli incontri tra i sindacati di categoria per un settore industria completo. La prossima fermata riguardante la vicenda degli ex Siteco, Punta Cugno e la piattaforma Vega B si farà all'interno di Lucoil Sud Marina di Melilli. A tal proposito si è tenuto un incontro tra il segretario generale della US CISL Paolo Sanzaro e il segretario generale della FIM territoriale Gesualdo Getulio, presente anche il segretario territoriale con delega all'industria Antonio Bruno per fare il punto della situazione nel settore metalmeccanico e focalizzare le priorità di intervento. Nell'immediato c'è da seguire l'ormai prossima fermata del Lucoil Sud. A partire da marzo saranno impegnati almeno 3.500 operai e questo pur nelle difficoltà generali rappresenta una boccata d'ossigeno per tutte le imprese di quel bacino. Nel settore metalmeccanico, dichiarano i sindacati, troppe risposte rinviate da parte della politica. La CISL Ragusa Siracusa e la FIM CISL non intendono abbassare la guardia rispetto alle grandi vertenze aperte sul territorio. Il polo metalmeccanico, continuano i sindacati, prosegue ad essere un potenziale traino per lo sviluppo di quest'area. Riteniamo però necessario che si sciolgono dubbi e resistenze procedendo ad assicurare un futuro certo per Punta Cugno e Marina di Melilli. Così come è necessario dare delle risposte definitive ai lavoratori della ex Siteco che a Marina di Melilli hanno prodotto e sono cresciuti professionalmente. Questa è la prima parte del nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo. Qualche minuto di pubblicità subito dopo chi per la seconda parte. Vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar Questa settimana in offerta. Cornetti d'Ais 320 grammi 1,45 euro. Biscotti balocco 700 grammi 1,39 euro. Mozzarella ragusa latte per 3, 1,59 euro. Bastoncini di pesce finnus per 18, 2,89 euro. Piatti di esse un chilo 2,89 euro. Carta igienica Joy 10 rotoli 1,19 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar Sul reparto abbigliamento sconti fino al 50%. Allora telecamera riesci a vederla? Sì, sì. È davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro. Ha stile. E guarda che cromature. Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma vai! Io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto. Ma non è un po' strano? E perché è una telecamera che parla? Non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport. Concessionaria Toyota. Contrada Tarja. Siracusa. Autosport. E anche Opel. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi, da Scavolini Store Siracusa, ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini, poi ti regaliamo un frigorifero Samsung. E la paghi in 20 rate. A interessi Zè. Scavolini Store Siracusa. Via Scala Greca 381. Ben trovati. Seconda parte del nostro telegiornale. Mancherebbe il confronto tra i vertici dell'ex provincia regionale di Siracusa e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Così i dipendenti questa mattina hanno protestato proprio sotto il palazzo della prefettura e hanno preparato un documento per il prefetto Gradone. Siti in davanti alla prefettura questa mattina per i lavoratori dell'ex provincia. I vertici avrebbero assunto decisioni che non sono passate attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, venendo così meno alle regole di tutela per la categoria, soprattutto riguardo alla riorganizzazione degli uffici. Da qui un report sulle problematiche consegnato al prefetto Gradone. Noi partiamo da lontano, partiamo da una riforma monca fatta dal governatore Crocetta dove elimina le ex province creando un nuovo ente che si chiama Liberi Consorzi dove all'interno del quale non si sanno quali sono le funzioni e i compiti di questi enti. Di conseguenza non si sanno quali sono le funzioni e i compiti dei dipendenti e di quali sarà il loro futuro. La nota positiva che oggi possiamo registrare è che le organizzazioni sindacali e regionali sono state convocate in commissioni e affari istituzionali proprio per dare il proprio contributo a quello che è un nuovo disegno di legge presentato dall'assessorato della funzione pubblica. Quindi diciamo che possiamo sperare affinché questo vuoto venga colmato e capire qual è veramente il futuro non solo dell'ente e quindi dei servizi dati alla cittadinanza ma anche dei lavoratori che vivono all'interno di questo stesso ente. C'è un altro aspetto che dire le organizzazioni sindacali in qualche modo vengono svilite nella loro funzione nei confronti, agli occhi dei lavoratori proprio per questa mancanza di riconoscimento. Sì, è una cosa più generalizzata ma nello specifico nella provincia di Siracusa diciamo che ha toccato un po' il fondo perché abbiamo chiesto con il nuovo commissario straordinario più volte con note scritte un incontro, un confronto per dare quello che è il giusto ruolo non solo alle organizzazioni sindacali ma soprattutto per dare dignità a quelli che sono i lavoratori che sono rappresentati dalle stesse. Chiarezza sulle delibere dell'amministrazione comunale per i contributi assegnati a vario titolo e quanto chiedono i consiglieri di minoranza questa mattina l'hanno ribadito nel corso di una conferenza stampa. Vogliono vederci chiaro alcuni consiglieri comunali di minoranza riguardo alle delibere adottate dall'amministrazione per contributi e sostegni economici di vario tipo qualcosa non quadra, sostengono affermando che bisogna far luce su criteri di assegnazione e scelta. A seguito della mia richiesta di chiarimenti da parte dell'assessore Italia, l'assessore alla cultura stiamo procedendo per avviare con una missiva intestata al sindaco e al segretario generale se sono state passate a setaccio tutte queste delibere di giunta e se sono stati superati i controlli che ogni atto di delibere di giunta deve essere sottoposto. Quindi faremo appello anche all'ente anticorruzione, alla Corte dei Conti se non saranno fatti i dovuti controlli. Ci sono in particolare alcune che vi hanno insospettito? Sì, a noi ci hanno insospettito prima sotto un profilo oggettivo alcune manifestazioni che sono state protocollate il 23 dicembre del 2014 e poi anche le dichiarazioni della consigliera Castelluccio che ha dichiarato che sono stati bypassati tutti i controlli attraverso i regolamenti comunali. Quindi siccome sono stati dati come patrocini onerosi non come contributi a noi questo ci è fatto insospettito e stiamo attivando le procedure amministrative per poter avere dei chiarimenti. Sulle tasche dei siracusani questo cosa comporta? Se vi fosse qualcosa di poco chiaro? Assolutamente noi quello che chiederemo è che il comune vada in autotutela e quindi il ritiro delle delibere. Sui siracusani sicuramente vanno ad attingere dei contributi della tassa del soggiorno e quindi potevano essere sicuramente riutilizzati o utilizzati soprattutto per le persone meno ambienti e quindi avere un effetto sicuramente sociale e di impatto sociale migliore. Segretario Cittadino Sicilia Democratica E' stata posta questa mattina una targa in memoria di Giuseppe De Melio un soldato che allora e per questo poi ha ricevuto tre medaglie d'argento d'onore e che allora salvò la vita a dodici commilitoni allora stiamo parlando del 1941. Un piccolo eroe che salvò la vita a dodici soldati è la storia di Giuseppe De Melio che nel maggio del 1941 si prodigò per portare in salvo i commilitoni imbarcati sul cacciatorpediniere Mirabello oggi una targa nella rotonda di Scala Greca lo ricorda. Mio padre era un tipo che parlava poco però io molte cose diciamo le sapevo le sapevo e fino a che lui è stato in vita certe cose magari non si sono evidenziate o segnalate come le sono state poi segnalate dopo cioè dopo la sua morte perché chiaramente tutto poi è nato da un impegno mio costante per poter raggiungere lo scopo sia per quanto riguarda lo slargo De Melio Giuseppe sia per quanto riguarda la targa che oggi è stata posta. Ricordiamo suo padre cosa fa di ciò? Mio padre all'epoca della diciamo della storia della straordinaria storia relativa all'eroismo era un marò imbarcato nel cacciatore petiniere esploratore Carlo Mirabello che la targa stessa evidenzia. Stiamo parlando della seconda guerra mondiale anni 40-45 il fatto avvenne il 21 maggio del 41 la nave esplose il 21 maggio del 41 alle porte della Grecia a Capoducato nei pressi di Capoducato e il riferimento è proprio per quello perché in realtà la nave affondando non c'era possibilità di salvezza tranne che per qualcuno per qualcuno e per fatti straordinari mio padre riuscì invece a salvare quest'uomini accettando prima di buttarsi a mare verso le 11 perché la nave esplose verso le 6 e mezza di mattina si cercò in tutti i modi di salvaguardare questa nave poi non si riuscì la nave affondò lo stesso e nonostante questo insomma alle 11 e mezza diciamo così una mezz'oretta prima di affondare mio padre si buttò prima di buttarsi buttò in mare tante ciambelle di salvataggio queste ciambelle di salvataggio servirono per accerchiare tutti gli uomini che lui poteva diciamo riprendere da vicino vicino a lui dove si era buttato li accerchiò con queste ciambelle di salvataggio se ne raccolsero 12 le ciambelle di salvataggio erano state strette tutte con i vari lacci e poi piano piano se li è portati a distanza almeno 200 metri comunque un punto di sicurezza dove la nave non poteva diciamo risucchiarli con il quanto è affondata andiamo adesso a Lentini c'è il nuovo presidente del consiglio comunale di Carlentini si tratta di Salvatore Genovese Salvatore Genovese è il nuovo presidente del consiglio comunale di Carlentini ecco con quali prospettive si parte la ringrazio innanzitutto Caronello per la possibilità che mi dà di comunicare alla città ai miei cittadini appunto a tutti quanti gli organi istituzionali del mio ente sicuramente si parte con i buoni propositi che ci possono essere quando uno viene eletto in un ruolo sicuramente è mia ferma intenzione a confermare tutte le cose che ho detto la sera dell'iniziatamento in consiglio comunale nello specifico andando ovviamente ad approfondire punti che riguardano sia l'immediatezza che il lungo termine ho convocato già per venerdì 13 alle 9 di mattina una conferenza dei capi gruppo perché non intendo assolutamente non lavorare da solo ma lavorare esclusivamente insieme ai capi gruppo in tutte le scelte perché è un'agenda politica che già è in itinere tra le cose più importanti nell'immediatezza c'è mettere immediatamente mano alla vicenda IMU per la questione dei terreni perché il comune di Calendini negli anni passati non pagava l'IMU sui terreni legati alla zona montana con la nuova ripetere e con il fatto che il comune di Calendini sia stato determinato come un comune parzialmente montano l'IMU sui terreni deve essere pagato in appresso l'intenzione di lavorare allo statuto e al regolamento del Consiglio Comunale insieme ai nostri consiglieri per dividerci un po' i compiti e cercare di fare il loro profigo e poi il punto più importante di cui abbiamo parlato in Consiglio Comunale la serie dell'insegnamento è la revisione del Piero Regolato Generale attraverso cui si può andare verso un percorso di sgruppo mi auguro che ci sia in questi mesi una fortissima sinergia con l'amministrazione perché ce n'è una necessità e che almeno non mancherà sicuramente il mio impegno ci sia una forte sinergia con tutti quanti i consiglieri comunali al fine di poter raggiungere il miglior risultato possibile nella gestione della cosa pubblica ecco per quanto riguarda le consulte comunali ci saranno anche delle novità non ultime non meno importanti perché ultime sono della ferma intenzione che bisogna rimettere in moto il processo delle consulte in primis delle donne dei giovani e dei diversamente abili perché c'è bisogno di dare voce soprattutto a questi aspetti della società adesso lo sport il Siracusa vuole confermare la propria leadership domenica prossima arriva intanto al De Simone il Via Grande per Contino che ritorna dopo due turni di stop a questo punto è importante vincere il Siracusa ha ripreso gli allenamenti agli ordini di mister Anastasi in vista del match di domenica prossima al Nicola De Simone fischio di inizio fissato per le ore 15 sarà di scena il Via Grande che nella gara d'andata riuscì a bloccare gli azzurri sullo 0-0 assenti perché impegnati con la formazione Juniors i giovani Taglia Galati Scarano e Carpinteri quest'ultimo è stato l'autore del gol decisivo nei minuti finali soprattutto di recupero ha regalato il successo ai ragazzi di mister Favara sui pari grado del Belvedere parliamo della Juniors alla ripresa e le preparazioni riflettori puntati su Gerlando Continuo il bomber agrigentino scalpita perché vuole tornare a dare il proprio apporto alla squadra dopo due turni di stop per squalifica stare fuori è dura detto Continuo due settimane senza giocare non è facile assistere a le gare dalla tribuna non è semplice ma i ragazzi sono comportati bene e il successo tenuto a Giarre è una grande soddisfazione non è scontato soprattutto per quel terreno di gioco di certo non ideale per una squadra che ama giocare al calcio come il Siracusa adesso però testa alla via grande serve un'altra vittoria intanto il Siracusa ha affidato all'avvocato Salvatore Calì il ruolo di segretario si tratta di un gradito ritorno perché Calì infatti era già stato nell'organico della scorsa stagione con questo servizio si conclude il nostro telegiornale vi auguriamo un buon prognimento di programma Grazie a tutti